Oltre un mese di stop per Sir Safeti con Ad Perugia, con il mondo del volley fermato come qualsiasi altra disciplina sportiva dall'epidemia ancora in pieno corso. E così il coach bianconero Vitalenian ha voluto parlare ai tifosi dalla sua quarantena perugina proprio per commentare il delicato momento che attraversa l'intero pianeta, il rinvio dell'Olimpiadi al 2021, le sedute singole e domestiche dei suoi giocatori e anche la speranza di una possibile ripresa dei campionati e delle competizioni europee. Non è facile oggi di parlare di pallavolo, per noi giocatori e natori è lo stesso con voi, essere senza contatto. Aspettare, aspettare e aiutare con stare a casa è la prima cosa. Il gioco dell'Olimpiadi secondo me è normale che loro non sono per il 2020 ma per il 2021. oggi la vita è essere sani per tutti e dopo il sport spero che noi possiamo ricominciare veloce ma solo se è qualcosa sull'altro livello. Prima la vita, dopo giocare di pallavolo. Per me è impossibile di seguire ma io so che i miei giocatori sono di professionalisti, loro fanno il maximale. Chiaramente non è lo stesso con allenare insieme. Noi ricominciamo o in giugno o in settembre ma un giorno non troppo lontano da qui noi ricominciamo. Noi ricominciamo.